Ciao, siamo a Parigi Sì, abbiamo fatto anche questa tappa transalpina del The North Face Speaker Series è andato bene, anche ieri Exposed to Dreams è stata fatta vedere qua un'altra avventura, quella di riuscire a farla in francese e la spedizione Speaker Series pian pianino sta arrivando alla fine Grazie! Grazie! Grazie per la visione!